Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys. Eccoci di nuovo con un altro video con il nonno, questo video l'ho visto già fare da degli youtuber e mi piacerebbe rifarlo insieme al nonno. Che stai facendo? Mi sto assicurando. Nonno sei pronto? Sempre. Ecco, nonno allora, adesso ti faccio delle domande e tu devi rispondere con quello che ti dico. Hai tre scelte e se sbagli ti scoccio qualcosa addosso. Adesso non so precisamente cosa, sceglierò qualcosa nella stanza. Quanti anni ha la nonna? 35, 69 o 110? 69. Ok, giusto. Chi è Fabi J? Un pescatore, uno youtuber, un mio compagno di scuola. Uno youtuber. Bravo, sì. Qual è il cibo che proprio non mi piace? Prosciutto, salame, formaggio. Formaggio. No, no ho sbagliato, non mi piacciono tutti e tre. No, no ho sbagliato. Qual è la mia materia preferita? Italiano, matematica, storia? Matematica. Giusto. Che cos'è Plutone? Una stella, un pianeta nano o un pianeta del sistema solare? Ma è un pianeta del sistema solare? Perché mi prendi in giro? Sbagliato. È un pianeta nano. È un pianeta piccolo. È un pianeta nano, sì. E' approfondito, è Luca in più se ti cade si va uno sconciamento in più ma questa cosa la puoi fare con la nonna qualche video fatto su youtube circa 200 video meno di 200 video più di 200 video circa 200 video no ne ho fatti più di 200 video perché io non li ho contati sbagliato ti scoccio qualcos'altro addosso e so già che cosa scocciarti no ma ora no mi dai vicini vicini no 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 qual è al momento il mio videogioco preferito minecraft clash royale o lego wars Lego Ghouls Spallato In Minecraft Qual è il mio numero di scarpa? 33, 35, 36 35 Bravo, giusto Che cosa vuol dire challenge? Corsa Sfida, ciabatta Sfida L'abbiamo fatta Giusto Quando la mamma mi chiama Per fare i compiti In che modo mi chiama Leonardo Leo Leonardo Leonardo Ce l'ho qua, è memorizzata proprio Il mio dinosauro Mauro Che dinosauro è? Tiranosauro tricerato polvero cerotto E' un pecorosauro Come il padrone Sbagliato No, questo non è No, questo poi Prendi un'altra cosa Peccolo, prendi un'altra cosa Questo non va bene E' un cuscino Ma si deve prendere qua No, devi prenderlo anche lì E' un cuscino E' un cuscino E basta Ragazzi Adesso scocciamo il nonno E la nonna Insieme Ma no Lei è un cuscino Uniti per sempre Nella buona e nella cattiva sorta Questa è una cattiva sorta Ragazzi Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al mio canale Ciao ciao da Leonardo Nonno E nonna E scotch E' una ceretta Ciao 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 C'è un telecomando qua Vogliono le forbici Dove stanno Lui se le qui Lei me le dai No, se non tagliamo lei Non ci riesce Aiuto Hai tutto attaccato Hai tutto attaccato Ti devi liberare Ciao 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 Grazie a tutti.